Mimini, tranquilli, se le faccio capire che come perla peppa, cosa avete combinato? Cioccolo, guarda. Come avete fatto a tornare a casa completamente congelati senza macchina e per di più con un morso? Guarda la caperna è una storia lunghissima, e tutto questo freddo mi ha messo, devo andare a cagare. Io non vi aspettavo a casa così presto. E che differenza fa? Si, visto lo che si fa. Ma, 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 ma quanto ci hai messo a sturrare il cesso? Vabbè ne riparliamo dopo, adesso devo correre. Ma dico, come vai un giorno di lavoro? E qua il cesso è ancora tutto pieno? Si, ma nella mostra. È bello stare fuori, quando la giornata. Ma ci fai qui. Ma, tu, porca puttana. No! Coglione! Non si è spaccato, tutti questi voli che ho fatto si è spaccato a tre metri. Se, se, è a posto, è a posto. Non è la cipollina anche, lo sai? Ma che cazzo di sicuro questo che è? Bene. Non la cipolla, questa è mala. E quello che sai? Cosa è... C'è la cappella che è un bambino! No! Guarda la cipollina e il suo cazzo! E poi si sbocca. E sto video è già il family friend, non il family friend. No! Ti fa, te, te. andiamo qui con la macchina. No! No, perché... Oh, il cazzo! Da qui sono! Dai, 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 dai! Ti, dai, ti, dai! Sbattacco io, così mi riveglie. No! Sei un ritartato! Ti sbocco, no! Ma questo video per un'altra opinione non è un video per la scienza Faffa cura caia Non mi ricordo Mettiamo le pizzette Io dal forno mi prendo un bel sacco Ma quali soldi? Cazzo è una bella sturata Ehi mamma l'angelo Porco diocrisco Hai scorreggiato Pene lungo Pene costruito Pene costruito Pene costruito Pene costruito Pene costruito Scalpata Ragazzi dove ci sono masturbati L'avventura è orribile ah è il corpo qui non ha le stronze picco puoi capare di domenico che piace il cazzo bubba babababa pure io vado è che ero inciuso il buco del culo? no cazzo ho dimattile mutando almeno no io lo so forse ragazzone migliore del mondo porco di no no duca, duca no perché? ragazzi, ragazzi io l'ho registrati io l'ho registrati sti qua un pezzo ragazzi, qual'è altro in ebreo? un pezzo spesso le ossa no no come? 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 ho da cagli dove ho fatto e no vieni, guarda su fuori come un calino ti senti mai in italiano quando occorre un caldo ma io ho un caldo d'oro ha uno calamelo il specchio è un calmo ma io ho un caldello va bene? va bene?